Non ha vita facile il progetto di una nuova acciaieria in Aussacorno, in Friuli Venezia Giulia, dove un megaprogetto di Danieli e Metinvest nella zona industriale ha già trovato sulla sua strada due grosse travi che si mettono di traverso l'opposizione della regione che dovrebbe dragare i canali per la lavorazione e il trasporto dell'acciaio e potenziare la ferrovia spendendo un patrimonio di 250 milioni di euro che intende investire in altra maniera, ma anche quella dei sindaci delle comunità della riviera friulana che di fronte alla presentazione alle commissioni regionali degli studi sull'impatto possibile dell'insediamento a Porto Nogaro hanno ribadito che la laguna ha già dato e non si tocca. I fondali infatti dovrebbero arrivare a 9,66 metri, due metri più di adesso di profondità per consentire il passaggio delle navi e su questo punto finora ci sono studi concordi sul fatto che non ne deriverebbero per la laguna gravi conseguenze ambientali né dagli scavi né dal traffico navale aumentato. I sindaci però si chiedono come sia possibile quando per molto meno azioni delle diverse amministrazioni nel tempo sono state bocciate senza contare che nessuno studio finora ha valutato l'impatto che l'acciaieria avrebbe sul turismo. L'acciaieria non è il progetto ideale per la zona della Ussa Corno, fortemente turistica a cavallo tra le lagune di Grado e Marano. Ha ribadito in commissione durante la seduta a fiume di quasi sei ore anche l'assessore regionale alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini. Seduta disertata provocatoriamente anche dal presidente Danieli che ha inviato al suo posto una lettera in cui esprime disappunto per la decisione della Giunta di cassare il progetto ancora prima che si concludessero gli studi ambientali delle università di Udine e Trieste, secondo cui non esistono condizioni evidenti per limitare l'insediamento. Un progetto che vale 2 miliardi e prevede a regime 700 dipendenti. La questione rischia di diventare anche un caso politico nei prossimi mesi, in quanto il gruppo Metinvest controlla anche l'acciaieria ucraina Azovstal, distrutta dai russi nella guerra e proprio dal ministro pordenonese di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, era stato proposto un emendamento che consentisse la nomina di un commissario governativo per la realizzazione di impianti industriali superiori al miliardo di euro, in cui molti hanno visto proprio il preliminare al via libera all'acciaieria. Ma lo stop della regione Friuli-Venezia Giulia ora mette tutto in discussione, tanto più che le pressioni da parte ucraina potrebbero far trasmigrare nella vicina Austria il progetto presentato come un'acciaieria sostenibile di ultima generazione a ridotto impatto ambientale.